Allora dato che non sono mai venuta dentro le riprese e dato che mi volevo riprendere riprendo anche la visuale giusto per farmi friggere di più dato che questo è l'ultimo giorno guardate che cosa si vede dalla mia stanza non si vede bene forse non lo vedete bene forse il mare di Cancun è troppo bianco guarda qua quello là sotto è una spada sì questo è un cartoggio faccio un paio di pote grazie ciao 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 ciao